Successo a Catanzaro per le serate della notte piccante. In migliaia hanno invaso il centro storico del capoluogo calabrese per tutti i tre giorni della Kermess tra musica, cultura, arte e delizie enogastronomiche. Nelle vie e piazze di Catanzaro erano presenti 40 cantine calabresi, ognuna delle quali con propri sommelier. Insieme al Morsello tantissimi prodotti ed eccellenze locali, con degustazione nei diversi punti food all'aperto. Il tutto in un'atmosfera di convivialità e socialità. Oltre alla pietanza calabrese per eccellenza è stato possibile degustare pizze piccanti, panini e ricette tipiche calabresi. In piazza prefettura lo show cooking di Simona Pironaci, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger italiana, fondatrice del sito internet Giallo Zafferano. A seguire il cabaret di Zelig con Rocco Barbaro e di artisti locali come Tonino Pironaci, il duo Rino e Giulio e Ivan Colacino. Per coloro che hanno voluto scoprire il patrimonio storico artistico della città, è stato possibile visitare Palazzo Grimaldi, oggi sede della Camera di Commercio, le gallerie del San Giovanni e il Teatro Politeama. In piazza Politeama, spazio alla moda e alla bellezza, con Denise Martino, venere d'Italia, che ha sfilato con i gioielli di Michele Affidato, testimonial dell'evento Danny Mendez. Per i più piccoli, invece, Galleria Mancuso si è trasformata in un'area dedicata interamente all'oro e Villa Margherita trasformata in una discoteca all'aperto. Per il gran finale della Notte Piccante, la squadra degli artisti di cabaret si è arricchita con i Cinghios Group.